Ciao a tutti, buon networking circolare. Oggi volevo condividere con voi una frase di Gabriel García Lorca che dice che una persona può guardare dall'alto verso il basso un'altra persona solamente per aiutarlo a rialzarsi. Ne abbiamo parlato durante un progetto sugli NFT che spesso vengono presentati come delle opportunità ma è difficile capire se sono solamente delle illusioni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate così discutiamo. Concentrazione, concentrati in azione.